Tutte le nostre cose, le nostre vitture, i nostri sapori, le nostre tradizioni e anche i nostri sapori perché quella è un'acqua che ce l'abbiamo noi a Barça, non è che vai a Roma e trovi l'acqua ferrata l'acqua ferrata viene usata nelle anfole perché non doveva prendere luce altrimenti si scriveva l'anfole, perciò veniva messa nelle anfole giù alla fonte c'è la lapide donata fra popolo napolitano e da Ferdinato di Pormone e per questo non se ne possono approfondire però ce l'hanno abolita facendola dare a finire a mano Facciamo tutto per Napoli perché così facciamo il futuro di così giovani Grazie a tutti